Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo, oggi recensione dell'album mensile numero 331, La morte non basta, copertina di Angelo Stano assolutamente fantastica in questa occasione guardate come è stata disegnata maniacalmente bene la morte, forse la più bella morte mai vista prima. Ma inizialmente qui pensavo si trattasse di un disegno di Corrado Roy, perché guardate i canoni del volto sono praticamente suoi, però dopo mi sono accertato che questo è un disegno frutto dalla mano di Angelo Stano, che va a riprendere un po' la tecnica pop art di Andy Warhol, ma dà comunque il suo tocco personale per una copertina tutto sommato eccezionale. Testa sceneggiatura di Di Gregorio e disegni di Gianluca e Roll Cestaro, di che cosa parla questa avventura? Ritornano i ritornanti, se mi passate lo squalido gioco di parole, si susseguiranno nel corso di questa avventura tantissimi amicidi per mano di questi non morti. Non per vendetta, quindi questi zombie non ritornano sulla terra per vendicarsi, ma anzi per aiutare la morte in un gioco di ironia ben riuscito proposto da Di Gregorio. La morte infatti in questa occasione decide di assumere diversi stagisti per farsi aiutare nelle sue pratiche di tutti i giorni e questo creerà non poco scompiglio a Londra. Una storia che ha tre quarti, che ha tre quarti, quando giungiamo a tre quarti del racconto, tende ad andare un pochino in stallo e tende ad offrire diversi punti morti. Questo è un lato un po' negativo, una storia che si blocca ad un certo punto, però dopo sfocia e comunque offre un finale ironico, ma deciso e plausibile. Per questo la storia riceve un sette e mezzo. Però attenzione, ci sono da premiare i disegni dei fratelli Cestaro che sono incredibili, quindi il voto si alza a otto meno. Solamente questa prima vignetta di questo albo vale il voto finale. Guardate gli sedili del Maggiolino come sono stati ricreati perfettamente. Il volante, l'espressione di Dylan, sono disegni davvero eccezionali. Un'incanota negativa, forse un'incomprensione tra lo sceneggiatore e il disegnatore. Solitamente, anzi a Londra, le macchine circolano sulla sinistra, come vediamo in questa vignetta, però nelle vignette successive dove avviene questo incidente, quest'auto sembra provenire dalla parte destra. Quindi un pochino di imprecisione, un errore che ho trovato io. Per il resto, nessun altro errore di sorta. Disegni, potrei star qui ora a farvi vedere questi disegni straordinari dei Cestaro perché sono davvero da premiare. Sono dei disegni davvero inediti che con Dylan Dog si sposano alla perfezione. Oltre ad offrire un livello di dettagli altissimo, sanno anche offrire un ventaglio di espressioni particolarmente ampio e poi abbiamo anche una sorta di tagli di sceneggiatura alla fisheye che vengono interpretati alla perfezione dai Cestaro. Come possiamo vedere anche, adesso vado subito a recuperarvi una vignetta, del traffico di Londra. Questa prospettiva davvero ben riuscita la si nota soprattutto qui adesso. Eccola qua. Vedete, il traffico di Londra è stato ricreato perfettamente. Questi disegni danno un'idea reale e molto verosimile del traffico di Londra. Insomma, convincono anche in campo esterno, mentre per quanto riguarda gli ambienti interni e i primi piani sui personaggi non peccano neppure lì. Insomma, disegni che sono quasi perfetti. Nessuno è perfetto, ma questi disegni ci sono quasi davvero vicinissimi alla perfezione. Bene, vi consiglio di leggere questo albo perché altrimenti dovrei stare qui due ore a sfogliarvi pagina dopo pagina per farvi vedere, per mostrarvi ognuna di queste fantastiche vignette. Quindi vi conviene comprarlo e vederlo dal vivo, consigliato. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi con chi vuoi. Iscriviti al canale YouTube del DilanDogofilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di DilanDog. E noi ci vediamo in un prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indagatorio dell'incubo. Se hai quest'albo sulla tua libreria fammi sapere la tua qui sotto nei commenti.